Partiamo dall'inizio. Dicesi still, anzi traducasi still per l'esattezza, furto, rubata, nell'accezione più Gary Paytoniana del termine, però anche affare, regalo, il che ricondotto al contesto del draft ci va a indicare un giocatore che magari non è stato scelto tra i primi, quindi è stato scelto abbastanza basso, però è risultato essere particolarmente forte come i primi se non addirittura più dei primi. Chiaramente questa cosa è abbastanza relativa perché magari c'è un giocatore molto forte che però è stato scelto molto alto che quindi è meno still di uno meno forte di lui ma che è stato scelto molto più basso. È come se ci fosse una specie di coefficiente, no? Che lega quanto forte sei rispetto a quanto basso sei stato scelto. Viene fuori un numerino e ti mette in una scala che va da zero a Nikola Jokic. Perché Nikola Jokic? Perché lo still debate, ammesso che ce ne sia mai stato uno, è come se si fosse risorto praticamente qualche giorno fa quando Nikola Jokic è diventato il giocatore scelto più basso di sempre ad aver vinto un titolo di MVP delle Finals. Chiaramente è un record potenzialmente battibile perché magari un giorno, non lo so, ci sarà uno scelto per ultimo alla scelta numero 60 del draft che vincerà un MVP delle Finals. O addirittura un undrafted, uno non certo che vincerà un MVP delle Finals. Per il momento ci pare impossibile, cioè è una roba fuori dalla concezione umana. Però nel basket, nell'NBA specialmente, mai dire mai. Cioè, voglio dire, se qualche anno fa ci avessero detto che a 75 anni sonati Greg Popovich avrebbe passato le sue giornate con un francese, perché io credo che tutti noi si sarebbe pensato subito all'ubriacatura molesta in un'ennoteca della Provenza con Boris Dio, no? E invece uemmaniamo. Quindi, proviamo a giocare come se niente fosse, eh? I 6 più 1 potenziali still di questo draft, secondo me, in ordine rigolosamente alfabetico, che però iniziano già bello e male, perché nessuno di loro è stato scelto durante la pubblicità. I Moni Bates, scelto alla 19 di secondo giro, quindi alla 49 complessiva dai Cleveland Cavs. Comparison, Brandon Ingram più arto e con capelli più lunghi. Io non sono oggettivo su questo giocatore, lo dico, lo dichiaro subito, non veniamo a fare, l'ho detto, non sono oggettivo, quindi se non volete sentire un'opinione potenzialmente più overrated della contendency di Philadelphia, schippate. Pro fa canestro, tanto, spesso, volentieri e praticamente in tutti i modi possibili. È arto, abbastanza atletico, c'ha tanti punti nelle mani, senso del canestro, soprattutto, e questo qui è uno che qualche stagione fa pigliava le copertine come sicura prima scelta assoluta, sicura. Contro non è appostissimo con il capo, non sta proprio benissimo con la testa. È anche secco, però gli Ingram, per l'appunto, i heavy endurance, ci dimostrano che questo tipo di giocatore qui comunque riesce a avere la sua carriera e a fare anche parecchio bene, nonostante, o forse anche grazie, a quella struttura fisica lì. Il fatto è che i neuroni, proprio, e ogni dica di vero. Questo qui è uno che qualche stagione fa pigliava le copertine come sicura prima scelta assoluta, sicura. È anche un contro, oltre che un pro. Grady Dick, scerto alla numero 13 dai Toronto Raptors. Comparison, Danilo Gallinari, più giovane, ovviamente, più piccino di statura, e io gli auguro potenzialmente meno injury prone, eh? Quello poi si starà a vedere. Se un giorno o l'altro dovesse venire in Europa, ho detto qui, fa le buche per terra. Da loro non lo so, di là è da vedere. Pro tira parecchio e bene. A Kansas l'anno scorso faceva il 40% da tre punti su più di sei tentativi a partita. Tira soprattutto sugli scarichi, però questo non significa che tiri solo sugli scarichi. Anzi, sorprende per come mette palla per terra, sorprende per come sa leggere anche la palla canestro, soprattutto in attacco, e sorprende anche perché è andato ai draft vestito da Robohop con la scarlattina. Contro non farà la gara delle schiacciate. E uno dice, chi se ne frega? Eh, lo so, per noi persone quasi normali sì, però per loro di là, se sarti giusto e non tiri su parecchio con la panca piana, vagliela a chiedere durante la fine che fai ai draft. Potenzialmente con Nick Nurse, secondo me, sarebbe stato un candidato rookie dell'anno. Non lo vinceva, ma un candidato rookie. Senza Nick Nurse non lo so. Derek Lively, scelto alla 12 assoluta dai Thunder, girato a Dallas. Comparison, Willie Colly Stein, con più potenziale, però. E Colly Stein e potenziale ce l'aveva, eh. Era la testa che mancava. La testa e il gusto per i tatuaggi. Però, i numeri, comunque abbastanza buoni, dicono il giusto, perché ha sempre giocato poco, fino a ora, e poi perché questo tipo di giocatori qui tendenzialmente fa meglio in NBA rispetto che al college basket. Ma soprattutto, i numeri dicono poco perché non bisogna guardare le stoppate che tira. tante, ma il numero di tiri che devia, i difensori che spaventa, i tiri che in qualche modo ostacola con la sua presenza. E questo fa impressione, questo numero qui, che nelle statistiche non ci va. E poi viene da Duke, che è come il bollino sulla banana per affidabilità. Contro il gioco offensivo, praticamente al momento non c'è. Cioè, siamo a ali hoop, tap in dal rimbarzo in attacco, schiacciate e rizzati, fondamentalmente. Però, cioè, voglio dire, non è che Tyson Chandler fosse questo grossissimo Achimo Lajuan, eh. Solo che, passando la carriera a giocare con Chris Paul e con Jason Kidd, alla fine l'hanno fatto sembrare un giocatore anche in attacco. Per cui, siamo nelle mani di Doncic. Dipende dal Luka Doncic. Che poi è anche il riassunto delle stagioni di Dallas, da buoni cinque anni a questa parte. Tristan Vukcevic, scelto alla 12 di secondo giro, quindi alla 42 assoluta, dagli Washington Wizards. Comparison, Kristaps Porzingis. No, in realtà è più piccino e ha caratteristiche anche un po' diverse. se si va a vedere bene. Però, io ve lo dico. Washington, quest'anno, con questo giocatore qui, ha fatto quello che gli Utah Jets avevano fatto l'anno scorso con Rudy Gobert. Cioè, ha dato via Rudy Gobert, famoso e caro, e ha preso Walker Kessler, sconosciuto ai più, che però alla fine della fiera ha fatto quasi uguale. Ottavia D. Però, è arto, artissimo, tira, bene, mette palla per terra, sa giocare a pallacanestro. E poi è nato a Siena, quando ci giocava il Babbo, Dujan Vukcevic. Infatti, no, no. Nel 2020 ha scelto la nazionale serba, dopo che l'avevano cercato la Grecia, la Spagna, la Svezia addirittura, nazionale della mamma. E noi, no, noi non l'abbiamo cercato perché dovevamo cercare Paolo Banchero. Questa storia che è nata a Siena, a Minucci, ti tirava fuori dei trisavoli che roba da chiodi. Invece, niente, manca a questo giro, il centro. Contro non ha troppissima voglia di difendere, il che, con tutti quei centimetri lì, è un po' uno spreco, e come velocità dei piedi non è proprio Roberto Bolle, diciamo. Però, oh, anche chi se ne frega, cioè, alla 42 di solito pigli dei trabocani scestistici e manco desaganna di hop, quindi... Jordan Walsh, scelto alla 8 del secondo giro, quindi alla 38 dai Sacramento Kings, ceduto a Boston. Con Perison è Renaldo Bulkman, che però sa giocare a pallacanestro, e con meno capelli, il che per me è un grossissimo handicap, lo sapete, certo. Se poi gliele dovessi dare io i milioni, forse guarderei di più a come gioca rispetto a capelli che ha. Forse, però, perché... Però, questo è cattivo, ma cattivo, cioè, è uno che difende, capito? È uno che ci dà, che ci mette l'anima in campo, è uno che ha sempre l'atteggiamento giusto, è un giocatore che garba agli allenatori per tutti questi motivi qui, anche per l'etica del lavoro, per l'intensità, difende 5 ruoli, fondamentalmente. 4, però, forse, forse, anche 5, soprattutto perché io, più che lo vedo, e più che mi pare parecchio più arto di 6 e 7, come invece viene listato, normalmente, ma parecchio, io non lo so, Sacramento ha fatto una boiata, dai. Contro, il tiro, per ora, niente. Però se ne riparla tra qualche anno, che questo via è terribile, io l'ho bello inquadrato, questo è uno che non si abbatte, manco se Mazzulla non lo fa gioca. Che poi, Mazzulla, facciamo a capissi, ora che non c'è più smart, chi pensi che ci si butti su tutti i palloni per terra? Le palle vagate? Eh, ci vai te sulle palle vaganti? Dai! Cam Withmore, scelto alla 20 dagli Houston Roads. Comparison. Ragazzi, questo è Terrence Williams. E io avevo perso completamente il cervello per Terrence Williams, eh? Terrence Williams è più arto e più grosso. Pro, atletismo e forza fisica. Cioè, questo va, questo sarta, questo quando spinge, spinge. Se ti pari davanti, per pigliare lo sfondamento, è più facile che tu pigli qualche punto di invalidità, se è un'estate. Cioè, è uno, capito? È uno di quelli che... E, nonostante questo, non è neanche battezzabile ai tiro. Non è Jason Capono, però non è battezzabile ai tiro. Ci avrebbe anche posto ogni squadra, però io, che i Rockets riescano a superare indenni tutta l'estate senza fare boiate con il mercato, non ci credo. Contro non ha niente di point. Cioè, è una forward e basta. In alcuni quintetti, magari un po' più alti, un po' più grossi, anche una guard e basta. Però non è una point forward e non è una point guard, ne manco per scherzo. Questo ai tempi di Terrence Williams, ai tempi di Horrie McGeddy, non era un problema. Ora, invece, se non c'hai niente di point, loro considerano che tu non sia buono a giocare a pallacanestro. È brutto, però, purtroppo, stiamo andando in questa direzione. E poi c'è My Boy, il più uno, Oscar, Shibue, lui. Perché non me l'avete preso? Perché è piccino? Perché non tira da tre? Che sport è? Che cosa siamo diventati? Ma veramente... Io non mi riconosco più in questa pallacanestro. Questo è il miglior rimbalzista dell'otto. Ma non solo degli stide, proprio di tutti, anche dei primi. Io spero che venga in Europa. In Italia, anzi, specificatamente. Sulle orme di Anosiche, di James Thomas, di Travis Watts, vieni in Italia. Noi abbiamo Cesare Pancotto e l'artiglio Haia. Ci garbano i giocatori in questo modo qui. si starà a vedere.